Ciao amici, siamo sul recupero di Torino-Napoli, mancano ormai due minuti allo scadere del recupero di quattro minuti, siamo sul risultato di 0-0 e devo dire che non è una partita che mi ha entusiasmato molto. Sì, hanno avuto occasioni da una parte il Napoli e anche dall'altra il Torino, però diciamo che oggi hanno vinto soprattutto le difese che sono state molto attente. Il Napoli forse come possesso palla, devo dire che mi è piaciuto molto il Napoli di Lorenzo, veramente un gran bel giocatore, dall'altra ora si scaldano un po' gli animi perché giustamente è un risultato che non fa comodo a nessuno, nel senso che sì, prendono un punto a testa, però sicuramente nel Torino tre punti andavano meglio, ma soprattutto anche per il Napoli, per non staccarsi, sì è vero che stasera poi Inter-Juentus bisognerà vedere come finisce, però nel frattempo l'Atalanta comunque ha vinto, quindi avanza e il Napoli avrebbe voluto questi tre punti. Si è visto che li hanno cercati, però dall'altra parte c'è stato un Torino molto attento, molto difficile da affrontare, ha fatto una partita, chiamiamola ordinata, quindi ha rischiato, d'altronde il Napoli è una grande squadra, l'ha rischiato il Torino, però tutto sommato ha fatto una buona partita e devo dire che il Napoli ha provato anche a fare qualche cambio, l'insigne sicuramente non era magari il solito insigne che uno ci si aspetta, quindi è poi uscito per fare spazio comunque a Llorente, attenzione che ora c'è Belotti contro Manolas, Meret, tutto tranquillo, mancano praticamente dieci secondi alla fine, mi aspettavo sicuramente una partita diversa, ecco la partita è finita, mi aspettavo una partita diversa, sicuramente con qualche gol e con qualche azione da gol in più, non è stato così, due squadre un po' tirate, questa è stata l'impressione che mi hanno dato, hanno cercato la vittoria ma non così fortemente, diciamo, quindi il risultato di Torino-Napoli è 0-0, un pareggio, ripeto, un pareggio che serve poco entrambe secondo me, va bene un punto però, con la vittoria che c'è soprattutto oggi, tre punti, sarebbe stato sicuramente un'altra cosa sia per il Napoli da una parte ma anche per il Torino dall'altra, detto questo godiamoci adesso il derby d'Italia e commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ciao a tutti!